Raga, non ci crederete, è successo tutto all'improvviso, ho sfidato Ante, membro del mio team, a farmi venti bomben solo in questa nuova season in cambio di qualche scritto e lui tranquillamente dopo qualche game me ne ha droppate ben 23, godetevi il video e fatemi sapere la vostra qui sotto nei commenti, like se ne volete altri, buona visione! Molagini! Ah, casca, adesso ce la faccio a tutti i video. È un sogno. Eh, non so. Mi sono dovuto parire, Dio. Rispondi. Ah, c'è. Che merda? Ah, è un sogno di nuovo. Ah, c'è. Non so più cosa fare. Ma questo non c'è un cacchio. Vado medici. La porta solo per me. Oh, non c'è. Carmo, carmo, carmo. Carmo. Non c'è un cacchio. Andi che killi oh sono in campagna no 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 non è che devi entrare là dentro oh 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 c'è qui qui ma ma spaccato no no oh 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 17 kg in realtà 7 persone rimaste ma devi fare tutti quanti no fra la frase non morire ok 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 no 19 bombe e 5 persone rimaste vai tutti quanti vai tutti quanti a c'è ancora si non 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 ne ho ne non no mo no quanti bombe Nice Fatto Manca un'altra persona Eccoli Ma guarda che scherzo Cazzo nippone, scherzavo, scherzavo Calmati, calmati Cazzo Manca un'altra Oh Eccolo Dietro l'albero Ultima Ultima Oh, è mal Là stava questo GAAAAT Questa che mi rompo la burra Non so più cosa fare Non so più cosa fare Nooo Sai che mi dico E' un bordo a casa digitale Ah, che pezzo di me Non c'è un'altra Non c'è un'altra Non c'è un'altra E' un'altra E' un'altra E' un'altra E' un bordo a casa digitale Oh Oh, è un bordo Questa è una bomba Questa è una bomba Questa è una bomba Non so se per te vuoi O che vuoi Non so se per te vuoi No so se per te vuoi